Edoardo Gonfalonieri in gol domenica con la Folgore Caratese, il gol che ha chiuso la partita, adesso vi aspetta l'ultimo atto con la Casatese, che partita ti aspetti? Mi aspetto una partita durissima come quella che abbiamo appena passato domenica, però ce la metteremo tutta contro una squadra molto organizzata con un reparto offensivo di livello assoluto, ma difesa, centrocampo, in porta, hanno un mister molto preparato e appunto sarà una battaglia e ce la metteremo tutta. Quello di domenica è stato il tuo quinto gol, quindi quest'anno hai visto la porta con continuità. Qual è stato il segreto rispetto all'anno scorso dove hai faticato un po' di più a segnare? Ma forse la posizione, perché quest'anno ho giocato un po' di partite play, ma altre tante partite mezzala. L'anno scorso a Gozzano principalmente ho fatto il play e quindi ero più da schermo difensivo che più offensivo. Ecco, però sì, quest'anno sono molto contento per quanto riguarda la fase realizzativa e speriamo magari, chissà mai, di farne un altro in finale domenica. Siccome il mister sguardo ha cambiato spesso anche a disposizione in campo, a volte hai giocato il 4-2-3-1, a volte il 4-3-3, quindi tu mezz'anno nel 4-3-3 ti trovi più a tuo agio? Sì, 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 molto di più a mio agio perché comunque a me piace attaccare, mi piace segnare e mi piace buttarmi dentro l'aria e diciamo queste sono le mie caratteristiche principali. Il tiro nella tre quarti e sì, preferisco molto di più la mezz'area. Domenica si giocherà a Castellanza, così sembra, è tutto confermato. Un altro a campo dopo quello di Piero, stavolta non sintetico, ma comunque molto bello, uno dei migliori della categoria che forse vi aiuta, voi giocatori tecnici? Sì, sì, ci aiuterà, anche se quest'anno Castellanza non ci ha portato benissimo perché abbiamo in Coppa Italia perso per 3-2 e poi a ritorno da loro 0-0, però è una finale, vediamo, ce la metteremo tutta, abbiamo due risultati su tre e appunto sarà una battaglia. La casa tesi è una squadra molto fisica, avete già pensato a come affrontarla? Sì, sarà una partita da impostare secondo me uomo contro uomo, loro appunto a centrocampo, Mecca, Recino, Isella, sono giocatori assoluti di livello e sarà una battaglia, ecco. Tu sei abituato all'alta classifica perché sei cresciuto da giovanile un po' arenate e un po' inter, poi hai fatto la Serie C arenate con l'esordio anche in Coppa Italia contro l'Avellino, l'anno scorso Gozzano da gennaio ha vinto il campionato e quest'anno secondo posto, stagione regolare e su finale play-off. Sì, sono stati due anni bellissimi, sia Gozzano che comunque abbiamo vinto il campionato, ma anche quest'anno arrivare in finale play-off non è da tutti, ecco, non tutti gli anni succede e speriamo appunto di mettere la ciliegina finale e di portare a casa questi play-off. Dal tuo punto di vista dove pensi, visto che sei ancora molto giovane, sei solo un 2001, che hai più margini di miglioramento per fare l'ulteriore step e magari tornare in serie C da protagonista? Ma margini di miglioramento, secondo me, soprattutto sotto l'aspetto fisico, posso migliorare tanto, ma anche magari qualche situazione della partita che verrà con l'esperienza, ma altre cose, non lo so, forse principalmente l'esperienza che come altri giocatori che ci sono qua, Gasparri, Ronzoni, che hanno 300-400 partite in carriera, sono giocatori fantastici e io appunto prendo molto esempio da loro e mi ispiro molto a loro, ecco.